Cari amiche e cari amici, dovete assolutamente andare a leggere un articolo di Francesco Lomendola e mi sarebbe piaciuto leggerlo, metterlo sul canale, ma purtroppo ho ancora una segnalazione di Youtube che tratta proprio di questo argomento, quindi non posso leggervelo, mi dispiace molto, ma ve lo segnalo, assolutamente dovete leggerlo, vi metto il link sia in descrizione che sotto in evidenza come primo post. Un caro braccio a tutti, Marco Cosmo